E' durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Giovanni Iacone, 48 anni, toscano, accusato di omicidio volontario aggravato per aver ammazzato, mercoledì pomeriggio, mogna di domenico, 45 anni, psicologa pescarese e proprietaria dell'appartamento che qualche mese prima Iacone, assieme ad un coinquilino, aveva preso in affitto. L'uomo ha risposto alle domande del GIP del Tribunale di Chieti, Antonella Radaelli, che è arrivata nel carcere di Madonna del Freddo, accompagnata anche dal PM titolare dell'indagine Giuseppe Falasca. Iacone, infatti, ha ribadito la sua versione dei fatti, resa in prima battuta proprio al PM nel corso dell'interrogatorio alla sera del delitto, svoltosi all'interno della caserma dei carabinieri di Francavilla al Mare. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dal Maggiore Federico Fazio, mogna di domenico sarebbe arrivata nell'appartamento di famiglia in via Montevelino, al confine con Pescara, per riscuotere gli affitti arretrati circa 800 euro. L'impossibilità di Iacone di pagare quanto dovuto avrebbe scatenato una lite da cui poi è scaturito l'omicidio. La donna sarebbe stata colpita la testa per tre volte con un sasso ornamentale, poi sarebbe caduta su un tavolino di vetro e da qui la ferita all'acero contusa sul collo, rilevata dal medico legale nel corso della ricognizione cadaverica. Questo quanto riaffermato anche stamattina al GIP, su cui però dovrà fare luce l'autopsia del medico legale incaricato dalla procura di Chieti, il professor Cristian Dovidio, ad aggravare la posizione di Iacone c'è l'occultamento di cadavere. I carabinieri infatti, seguendo le tracce di sangue che dall'appartamento al primo piano conducevano alla soffitta, hanno trovato il corpo della donna in fondo al corridoio che conduce ai magazzini dei condomini in manzarda. L'assassino si è giustificato dicendo di aver agito in preda al panico, ma se l'autopsia dovesse accertare che la ferita alla gola è stata inferta proprio dall'uomo nell'impeto del raptus, l'accusa potrebbe risultare ancora più pesante. Intanto, al termine dell'udienza di convalida, questa mattina l'avvocato difensore di Iacone, Emanuela De Amici, si ha voluto lanciare questo messaggio alla famiglia di Domenico. Io non posso che esprimere tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà alla famiglia della dottoressa di Domenico perché questo è un dramma e quindi anche il mio assistito oggi ha manifestato pentimento e si è dichiarato per quello che insomma può portare alla famiglia della vittima, ovviamente pronto ad assumersi la responsabilità e comunque tutte le conseguenze che derivano dalla sua condotta quando verrà accertata.